Il Tribunale per i minorenni di Firenze apre le sue porte a cittadini, giornalisti, operatori del settore per affrontare e discutere il tema dei diritti e della tutela delle persone minori di età e delle loro famiglie. L'Open Day a misura di minore è in programma il prossimo 27 gennaio. Sarà un evento di per sé importante, il cui scopo è illustrare il funzionamento del Tribunale per i minorenni di Firenze e ai cittadini, tra i quali quelli di età più giovane. Questa è la giornata della giustizia civile, è un avvenimento europeo e in particolare, anche se poi è ritardato come data, ma questo per motivi organizzativi e tecnici, in particolare il Tribunale per i minorenni che si apre all'esterno è una conferma in realtà anche per i ragazzi e per le famiglie di cui noi quotidianamente ci occupiamo e la conferma in realtà di quello che facciamo quotidianamente, perché noi siamo fondamentalmente un Tribunale aperto, aperto agli altri, aperto al pubblico, aperto che si affaccia sulla realtà sociale e quindi il nostro è un Tribunale dialogante con tutte le realtà familiari, scolastiche, educative presenti sul territorio. Per noi è un grande piacere annunciare questa iniziativa di apertura del Tribunale minore e questa giornata di riflessione che ci vede anche coinvolti come Regione, ma soprattutto è un grande piacere ribadire l'interesse della Regione Toscana a lavorare con il Tribunale dei minori di Firenze. Ringrazio il Presidente Trovato, la nuova facente funzione del Tribunale che è intervenuta prima di me. È un lavoro quello con il Tribunale che vede la Regione Toscana costantemente in un rapporto consolidato e che vogliamo confermare dell'interesse delle bambine, dei bambini e degli adolescenti di questa regione perché quello che ci interessa è consentire di avere relazioni istituzionali che consentano alle bambine e ai bambini di essere parte delle nostre comunità, indipendentemente da dove si parte, dalle difficoltà che si possono avere.